ciao a tutti cari amici e bentrovati nel canale allora oggi ho deciso di fare un video per presentarvi la novità del 2023 quindi da gennaio per i consulti privati c'è qualcosa di nuovo che io naturalmente già dall'anno scorso sto approfondendo e sto studiando e sono le carte dei nut allora sono delle carte molto particolari come potete vedere io adesso ve le mostro e queste sono servono per fare una lettura di quelle che è di quella che è la costellazione familiare sono delle lame che ci aiutano aiutano voi il consultante ma anche se volete sapere anche di altre persone rispetto al carattere al karma riguardano la famiglia quindi sono le persone stesse che fanno parte della nostra famiglia quelle che voi decidete il nonno il bisnonno anche animali che vi sono stati vicini in passato persone che vi sono state vicine in passato che attraverso questi spiriti vi guidano per capire per rendervi consapevoli rispetto alle vostre potenzialità ai vostri pregi ai vostri difetti a come potete agire per risolvere dei problemi risolvere delle situazioni che avete in voi stessi ma anche naturalmente poi anche con gli altri sono delle carte che sono adatte proprio per il consultante stesso quindi non vanno a vedere il futuro queste non fanno descrizioni su rapporti sentimentali come possono essere i tarocchi o quant'altro ma proprio parlano di voi quindi se ci sono delle persone che si sentono in difficoltà nella propria vita non sanno come mai capita sempre che trovano persone che non li amano oppure hanno paura di tradimenti oppure sono molto gelose e non riescono a risolvere il problema queste carte vanno ad indicarci a darci un input per risolvere la situazione grazie appunto a quello che ci viene detto dalla nostra famiglia dalla costellazione familiare possono anche essere fatte per altre persone naturalmente per comprendere altre persone però è indispensabile che sappiate conosciate la famiglia della persona perché naturalmente dovendo citare dei nomi che verranno diciamo abbinati ai vari spiriti bisogna naturalmente conoscere la presenza delle persone all'interno della famiglia quindi da gennaio c'è questa nuova questa novità io spero che vi sia gradita insomma che vi piaccia quindi se volete informazioni per i consulti generali le canalizzazioni ma anche per i consulti con le carte dei nate io vi invito a mettere a scrivermi via mail a tarot taitarot gmail.com anche semplicemente per informazioni non vi preoccupate non c'è nessun tipo di obbligo io con questo spero che vi sia chiaro diciamo il tipo di stese che si fanno con queste lame con queste carte vi do un abbraccione grande e vi aspetto come solito ogni sera con la nostra canalizzazione e con i nostri interattivi